Grazie a tutti. Il giudice deve tenere in considerazione le risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate. L'articolo 1 del Decreto Legislativo numero 198 del 2009 dispone che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenee per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lezione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali e obbligatori e non avendo il contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entra in oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nella Carta dei Servizi, ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione e dal controllo del settore e per le pubbliche amministrazioni definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui è l'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150. La fondatezza dell'azione collettiva e in tema di efficienza pubblica amministrazione postula che la lezione diretta, concreta ed attuale degli interessi derivi a dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali e obbligatori e non avendo il contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entrano in oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento. B. Dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi. C. Dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dall'articolo 1 sopra accennato. In relazione a questi ultimi, occorre considerare che, ai sensi del richiamato comma primo bis dell'articolo 1 decreto legislativo 198 del 2009, nel giudizio di sussistenza della lesione, il giudice deve tener conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane, concretamente a disposizione delle parti intimate.